Boicottare le imprese senza bollino etico, un marchio che attesti la trasparenza delle aziende e che accerti di ritrovarsi di fronte ad un'impresa che non utilizzi manodopera in nero o clandestina. E la proposta del Codacons annunciata dalle parole del proprio presidente Carlo Rienzi. Un fermo no dunque all'abbassamento dei costi dei prodotti ottenuto attraverso lo sfruttamento della manodopera. Sconfiggere il caporalato è possibile ma le imprese devono essere oneste e rispettare i lavoratori. E la riflessione emersa anche dalla giornata nella quale a Foggia sono state organizzate due manifestazioni per ricordare le 16 vittime dei due incidenti stradali avvenuti nei giorni scorsi nella Capitanata. Due scontri che hanno causato la morte dei braccianti agricoli africani di ritorno dal lavoro dei campi e che hanno fatto riaccendere i riflettori sulla piaga del caporalato. C'è bisogno che le imprese rispettino i lavoratori, che le imprese vogliono fare una scommessa col sindacato, con le istituzioni per competere sul mercato, con i nostri mercati, con il nostro prodotto, i nostri prodotti di qualità e non invece competere con l'abbassamento del costo attraverso l'abbassamento dei diritti dei lavoratori. Questa manifestazione non ci possono essere più morti e non ci devono essere più morti per lavoro. Non vale per l'agricoltura, vale per tutti i settori del lavoro. È necessario per sconfiggere il caporalato che le imprese collaborino con istituzioni e sindacati lungo la scia della trasparenza. A sostenerlo anche il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, presente da entrambe le manifestazioni organizzate a Foggia. Stiamo cercando di convincere, ad opere un termine che abbraccia, non che respinge, le imprese che fanno raccolta del pomodoro, ad accettare il sostegno della Regione, del sindacato nel costruire un trasporto legittimo, legale, trasparente, che non consenta ai caporali di confondersi con i trasportatori. E soprattutto dobbiamo realizzare dei luoghi dove dopo il lavoro si va a dormire, ci si lava, si passa del tempo libero, si può chiamare casa. E questo è un diritto di ogni lavoratore dopo una giornata terribile nei campi. E queste sono le foresterie dei lavoratori in agricoltura in Puglia.